Salve a tutti, e benvenuti in questa nuova e prima edizione del TG Umberto's Official Channel. Oggi, siamo qui per parlare del canale e dei video che usciranno i prossimi giorni. Prima di tutto, vogliamo dire che visto che la serie di Kuchima sta piacendo tanto, la continueremo con a meno un episodio ogni settimana. Ogni tanto, usciranno inoltre puntate della serie di Jimmy Pimby, e tra 1 o 2 mesi, inizierà la seconda stagione di Umberto's support. Ricordate di passare dai nostri canali collaboratori, ovvero coloro che hanno fatto almeno un video dedicato a Umberto, l'Origan Airpik, GF Filo, Manogames, Alt 2.2, di P200. Per se qualcun altro che adesso mi sono dimenticata. Per oggi è tutto, e ci vediamo nella prossima puntata del TG Umberto's Official Channel. Buona serata.